Nel corso del 2016 il PSL del Veneto ha conseguito tre risultati importanti, i principali. Il primo è un sostegno importante a oltre 8.000, quasi 9.000 agricoltori per l'introduzione di metodi di coltivazione agroclimatico-ambientali più rispettosi dell'ambiente e per l'introduzione del metodo di coltivazione di agricoltura biologica. Il secondo risultato è un supporto a più di 1.200 imprese agricole con un sostegno importante dal 40 al 60% degli investimenti materiali ai fini del modernamento aziendale e della redditività dell'azienda agricola. E da ultimo, ma non meno importante, il sostegno concesso a 400 giovani, nuovi agricoltori che assicurano una quota importante di ricambio generazionale nel settore delle imprese agricole.